Prima di cominciare ti invito a scaricare OneFootball, quella che ha il mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news, sempre. Credeteci pure perché la prima finalista della prima National League della storia è il Portogallo, che batte 3-1, un'ottima Svizzera, una Svizzera in crescendo, sia per quanto riguarda la rosa che ha, sia per quanto riguarda i giovani che stanno sempre più uscendo fuori con la ripetizione. Il Portogallo vince 3-1 con la tripletta del solito, inimitabile ragazzi, Cristiano Ronaldo. Allora, la tripletta è importantissima, il Portogallo che quindi è la prima finalista a fronte della vincente tra Inghilterra e Olanda, il Portogallo che diciamo non è che domina interamente la partita, c'è la Svizzera, ha qualche lampo ogni tanto, ci prova, riparte, però ragazzi il Portogallo secondo me come rosa è più forte, a parte che hanno avuto un vantaggio notevole dal fatto che il Wolverhampton abbia preso tutto il Portogallo e l'abbia messo in una squadra, perché giocano veramente bene insieme, sono tanti giocatori che giocano insieme, molti dei giocatori del Portogallo giocano in Premier League in generale, al di là poi del Wolverhampton, quindi insomma si conoscono e sanno il modo di giocare. Giocano un po' all'inglese, non è che giocano molto alla portoghese, diciamo non è che giocano molto alla brasiliana, perché il Portogallo un po' negli anni passati, quando aveva poi i vari Luis Figo, quando aveva i vari Nuno Gomes, andava un po' a riprendere, o almeno ci provava comunque avendo una nasione piuttosto scarsa, cioè nel senso sì forte, ma tra le forti era quella più scarsa, andava un po' a riprendere il metodo carioca, adesso gioca un pochino più alla inglese, un pochino più alla fisica, con ripartenze veloci e spazi larghi, però è un Portogallo che comunque a me ragazzi fa abbastanza impressione, vabbè oggi a parte c'è un Cristiano Ronaldo che mi lascia sempre, sempre senza parole, perché quando Ronaldo ti fa una tripletta del genere, te la decide praticamente da solo, vincendo 3-1 e portando il Portogallo alla prima finale di Nations League, allora c'è poco, c'è veramente poco da fare, e tra l'altro questo potrebbe essere un altro record singolare di Cristiano Ronaldo, perché qualora dovesse veramente vincere la Nations League, la prima Nations League di Portogallo, Cristiano Ronaldo avrebbe vinto la prima Nations League, con una tripletta decisi, pensi in finale, poi staremo a vedere nelle altre competizioni, scusate, nei altri turni, quindi in finale, l'ultimo turno che è rimasto, che cosa farà. Detto questo, allora il Portogallo merita, merita, tra l'altro nel finale il 3-1 ragazzi, era perché ormai la Svizzera era andata praticamente a farsi fottere, cioè a farsi benedire Ciaka, che va a fare quell'errore imperdonabile, che io non riesco sinceramente a comprendere, ma poi il 2-1 del Portogallo, lì ragazzi, uno spazio del genere non si può lasciare Bernardo Silva, che va a dare quel porno a Cristiano Ronaldo, ma poi il doppio passo di Ronaldo sul terzo gol ragazzi, con la finta e con il pallone in diagonale per, cioè su Sommer che non può farci nulla, per me è qualcosa di veramente preciso, cioè nel senso che magari chi lo guarda adesso diceva, beh beh un tiro sì, che nel senso che stiamo parlando di Ronaldo, ok ma tu devi pensare a 250 cose, ai movimenti del corpo, alla difesa, a tagliare in mezzo all'uscita del portiere all'angolino, cioè per me non è per niente facile, anzi, rigore per la Svizzera che per me non c'era, tra l'altro hanno dato un rigore, cioè praticamente c'era il rigore per Portogallo, non dato ripartenza, rigore per la Svizzera, comunque alla fine se non hanno vinto i migliori, fatemi sapere la vostra, come sempre con un commento qua sotto abbiamo la prima finalista della storia della National League, iscrivetevi al canale qualora non l'avete ancora fatto, buascialalala, seguitemi su Instagram, simonesiccolfatratinoabassofficial, e come sempre ci vediamo ad un prossimo video.